Ok, allora riprendiamo quindi oggi il discorso che avevamo iniziato la settimana scorsa sulla rappresentazione dei numeri e sulle operazioni aritmetiche che si fanno con i numeri binari per il momento stiamo parlando di rappresentazioni algebriche, quindi ancora teoria, un po' di matematica ma poi vedremo come questo si traduce nei circuiti elettronici che ci sono alla base del calcolatore allora la settimana scorsa abbiamo visto sia la rappresentazione dei numeri binari positivi che le operazioni di somma e sottrazione e abbiamo osservato che si poteva verificare una condizione strana che prendeva il nome appunto di operazione di overflow che si verificava quando il risultato di un'operazione avrebbe richiesto più bit, quindi più spazio a disposizione rispetto allo spazio che avevamo a disposizione nello spazio che fosse disponibile prima, quindi ad esempio se io so che lavoro con i numeri codificati a 4 bit e salta fuori che il risultato dell'operazione è un numero che deve essere rappresentato su 5 bit beh allora questo lo chiamo condizione di overflow perché questo numero, questo quinto bit io in realtà non ce l'avrò non esiste e quindi sarò obbligato a rappresentare il risultato in modo errato in modo approssimato e io dirò che il risultato di questa somma è questo valore e quindi dirò erroneamente che 5 più questo è 14 fa 3 che chiaramente nella arimetica di tutti i giorni è sicuramente sbagliato è il risultato che però sono costretto a dare se nel mio calcolatore io avessi solamente la limitazione di avere solamente 4 bit e quindi se l'unico universo che ho è un universo a 4 bit il numero 19 che sarebbe il vero risultato non esiste nel mio mondo perché su 4 bit il numero massimo che potrò mai rappresentare è il numero 15 quindi capita questo, se io ho un'arimetica a dimensione fissa non tutti i risultati possono essere rappresentati e nell'eseguire materialmente le operazioni a volte il risultato viene fuori sbagliato è importante riuscire ad accorgersi mentre facciamo l'operazione quando questo succede due note veloci sul fatto che noi rapproletchiamo i numeri in binario, in base 2 usando le cifre 0 e 1 ma è un po' noioso scrivere un numero grande, diciamo così, solamente con 0 e 1 quindi se dovessi scrivere un numero 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 lo posso fare ma è un po' lungo e di fatto è un po' come quando vi chiedono un colce fiscale o un libro, sono tante cifre da copiare e ci si sbagliano facilmente allora si sono adottate dei modi abbreviati in certo senso di rappresentare gli stessi numeri binari usando delle basi che sono una potenza della base 2 ad esempio la base 8, 8 chiaramente è 2 alla terza noi possiamo rifare tutto il ragionamento che abbiamo fatto la volta scorsa partendo dalla base 10 e arrivando alla base 2 ecco potremmo fare questo stesso ragionamento arrivando alla base 8 qui noi potremmo scrivere dei numeri in base 8 e quindi con la formula, la formula che è la sommatoria di a con i per 8 elevato a i dove a con i sono le cifre del numero in base 8 noi normalmente lo facciamo in base 10 abbiamo imparato a farlo in base 2 potremmo farlo in qualunque base che sia un numero intero positivo maggiore di 1 quindi nessuno ci vieta di fare questo ma cosa succede? se io vado a vedere questa espansione questo a con i per 8 elevato a i questi a con i sarebbero delle cifre ottali diciamo si chiamavano ottali cioè in base 8 del numero che stiamo rappresentando ma io però un qualunque numero questo a con i che è un numero compreso tra 0 e 7 qualunque numero compreso tra 0 e 7 perché in base 8 le cifre che ho a disposizione sono solamente i numeri tra 0 e 7 lo posso, lo potrò sicuramente decomporre in base 2 quindi questo a con i lo potrei sempre scrivere come chiamiamolo b con 2 per 2 alla seconda più b con 1 per 2 alla prima più b con 0 per 2 alla 0 che cosa ho fatto qua? fatemi solo correggere perché per 2 alla 0 cosa ho fatto? ho preso un a con i ok? che era un numero un numero intero compreso tra 0 e 7 che è una cifra e l'ho scritta perché mi andava come espansione il numero in base 2 quindi se a con i fosse a con i fosse in questo caso 5 l'avrei scritto come 1 0 1 in base 2 1 0 1 in base 2 significa fare questa sommatoria allora cosa capita? se voi adesso vi risparmio tutti i passaggi se voi fate questa operazione su ogni cifra di un numero scritto in base 8 e lo confrontate con lo stesso numero scritto in base 2 quello di cui ci accorgiamo è che ogni cifra in base 8 corrisponderà esattamente a 3 cifre in base 2 e quindi quando io ho un numero come 2 7 1 in base 8 ha un certo valore se io prendessi il numero 1 0 1 1 1 0 0 1 quello che sito sopra in base 2 ha lo stesso valore decimale questa operazione questa conversione da base 10 a base 2 da base 10 a base 8 la potremmo averla fatta indipendentemente e troveremo questi due numeri quello che osserviamo è che se io prendo il numero in base 2 prendendo le sue cifre a 3 a 3 quindi prendo queste 3 queste 3 queste 3 e leggo queste cifre da sole come se fossero staccate dal resto in base 2 qui ottengo un 1 che è uguale a questo qui ottengo un 7 4 più 2 più 1 che è uguale a questo e qui ottengo un 2 che è uguale a questo detto in altri termini per passare da un numero rappresentato in base 2 a un numero rappresentato in base 8 o viceversa è sufficiente semplicemente leggere ogni gruppo di 3 cifre come se fosse in base 2 come se fosse un'unica cifra in base 8 ok? se ragionate su queste sommatorie ma noi non entriamo in questo dettaglio non che sia difficile ma ci farebbe solo perdere un po' di tempo vi accorgete che in realtà l'espansione del numero in base 2 l'espansione del numero in base 8 sono compatibili perché è qua il motivo perché 8 è una potenza di 2 e quindi quando io vado avanti con le potenze di 2 a un certo punto troverò 2 alla terza troverò coincide con 8 alla prima 2 alla sesta coincide con 8 alla seconda e così via per quello che le potenze dell'8 sono allineate ogni 3 potenze del 2 questo vuol dire che noi abbiamo una scorciatoia se noi volessimo scrivere questo numero che avevo scritto prima binario lungo scomodo da scrivere in base 2 lo posso scrivere in base 8 e in base 8 sarebbe qualcosa come 5 prendo questi tre numeri fanno un 5 poi prendo questi tre numeri successivi un 1 poi prendo i tre numeri successivi e un 6 e poi ho 0 quindi io posso scrivere 06 1 indicando che è un numero in base 8 e che è del tutto equivalente a scrivere quel numero di prima indicando che è un numero in base 2 quindi i programmatori spesso usano queste abbreviazioni scrivendo un numero in base 8 o più spesso ancora scrivendo un numero in base 16 parlando di numeri binari quindi il numero binario non lo scriviamo mai per esteso con 1 e 0 ma lo scriviamo sempre con delle rappresentazioni diciamo così abbreviate in base 16 è più comodo rispetto alla base 8 perché il 16 ovviamente è 2 alla quarta e quindi varrà la stessa regola per cui una cifra della base 16 corrisponde a 4 cifre della base 2 1 2 3 4 l'altra cifra in base 16 corrisponde a 4 cifre in base 2 e così via quindi avere gruppi di 4 è più comodo che avere gruppi di 3 semplicemente perché un byte è fatto da 8 bit oppure una parola è fatta da 16 o 64 che sono multipli di 4 ma non sono multipli di 3 quindi in base 8 è sempre un po' un pasticcio perché hai 3 3 3 bit e poi ti rimane sempre qualche bit fuori perché la larghezza della parola di memoria non è un multiplo di 3 ovviamente in base 16 ci dobbiamo inventare qualche cosa perché se in base 10 le cifre sono dallo 0 al 9 in base 8 le cifre sono dallo 0 al 7 in base 16 le cifre sarebbero dallo 0 al 15 però 15 deve avere un simbolo suo e quindi in base 16 si usano le lettere dell'alfabeto per indicare la cifra che vale 10 la cifra la indichiamo con A la cifra che vale 11 la indichiamo con B la cifra che vale 12 la indichiamo con C il 13 con D il 14 con E e il 15 lo indichiamo con F perché abbiamo bisogno di una cifra sola il cui valore numerico pesi 12 tanto per dire ok quindi se noi scriviamo questo numero B9 sarebbe B vale 11 per 16 alla prima più 9 per 16 alla 0 ok e quindi basterebbe fare conto e vedere quanto vale questo numero oppure passiamo quindi per passare dal base 16 alla base 10 basta semplicemente applicare la formula per passare dalla base 16 alla base 2 è molto più veloce invece ragionare per aggruppamento di cifre quindi vedremo molto spesso dei numeri scritti in base 16 e diremo questi sono numeri binari e voi mi dice no no sono numeri in base 16 sì sono numeri in base 16 ma le usiamo come scorciatore per rappresentare numeri binari perché basta semplicemente ricopiare non ci bisogna di fare nessun calcolo ok questo 1 0 1 1 è 8 più 2 più 1 fa esattamente 11 e questo 1 0 0 1 fa esattamente 9 8 più 1 ok quindi non abbiamo fatto nessun calcolo per passare dalla base 2 alla base 16 la base 16 prende anche il nome di esa decimale quindi esa 10 esa vale 6 e decimale vale 10 quindi 10 più 6 si usa a volte il simbolo h o a volte il simbolo x per indicare che sono numeri esa decimali le cifre in base 16 sono queste tutte le cifre numeriche sono queste che sono composte dalle va dalle nostre cifre dallo 0 al 9 e poi da altre 6 cifre aggiuntive per cui usiamo le lettere dell'alfabeto come abbiamo detto prima per cui se io avessi che ne so se mi dicessero che un numero vale 3f in base 16 mettiamo un h per ricordare che è in base 16 questo che cos'è? è un numero di due cifre quindi avrò 16 alla 0 moltiplicato la cifra f più 16 alla 1 moltiplicato la cifra 3 la cifra f vale 15 vale al valore numerico di 15 noi non abbiamo un simbolo potremmo inventarci dei segni strani potremmo chiamarle che ne so col fiorellino col cuoricino con l'asterisco ma per comunità le chiamiamo queste cifre che hanno un valore una cifra unica che ha un valore superiore al 9 usiamo le lettere dell'alfabeto questo 3f è un numero che se qualcuno ha voglia facciamo il conto e vediamo quanto vale in base 10 ma se lo dovessi trasformare in base 2 f vale 15 e 15 in base 2 si scrive con 4 1 3 in base 2 si scrive 0011 e quindi ogni cifra della base 16 corrisponde a 4 cifre della base 2 ogni gruppo di 4 cifre della base 2 corrisponde a una cifra della base 16 quindi si può andare avanti indietro esattamente così semplicemente sostituendo cifra a cifra quindi uno non ha voglia di scriversi tutti gli zeri gli uni ma semplicemente li raggruppa 4 a 4 a 4 a 4 e scrive le corrispondenti cifre esadecimali in modo diciamo così più compatto è un modo compatto per rappresentare i numeri binari né più né meno però può far comodo a volte lo possiamo trovare a volte senza fare calcoli i calcoli sono da fare solamente se lo vogliamo passare da e verso la base 10 perché la base 10 chiaramente è quella che non è una potenza di 2 e quindi dovremmo fare i calcoli con le divisioni i resti eccetera eccetera questo numero qua facciamo il conto 3 per 16 fa così completiamo la slide 3 per 16 fa 48 mi sembra di ricordare 48 più 15 8 più 5 fa 3 con il riporto di 1 quindi 4 più 1 5 1 6 63 se non sbaglio questo in base 10 quindi con il numero 63 base 10 lo possiamo scrivere 3f in base 16 oppure 0 0 seguito da 6 1 in base 2 ok ma abbiamo questi sono semplicemente dei modi diversi di scrivere i numeri decimali le domande che mi faceva altra volta scorsa invece erano ma sì ma mi hai raccontato i numeri positivi ma come facciamo con i numeri negativi allora proviamo adesso a costruire un castello noi conosciamo i numeri cosiddetti in binario puro che sono i numeri semplicemente positivi interi e sopra i numeri binari puro li estendiamo per costruire i numeri diciamo così consegno e ci inventiamo dei modi usando solo sempre lo 0 e l'1 ci inventiamo dei modi per rappresentare interpretare questi 0 e questi 1 in modo diverso in modo da pensare anche di usare i numeri consegno e qui ci possiamo inventare come anzi vedremo che ci sono più modi diversi di rappresentare sempre i numeri consegno partendo dai numeri in binario puro e poi faremo la stessa operazione per vedere i numeri decimali e così via i numeri frazionari come il floating point tenete conto che noi in base 10 stiamo barando perché quando rappresentiamo un numero negativo in base 10 scriviamo ad esempio meno 5 cioè noi usiamo la rappresentazione decimale per rappresentare il valore il valore assoluto del numero e poi aggiungiamo un simbolo in più che è un meno o un più davanti al numero questi simboli non fa parte delle cifre numeriche è un simbolo aggiuntivo che siamo inventati se siamo presi la briga di inventare nessuno ci ha detto di no nelle calcolatorie io non posso dire che 5 è 101 e meno 5 è meno 101 perché? ma perché semplicemente questo meno non ce l'ho perché dentro il calcolatore lui può solo avere 0 e 1 non può avere dei meno degli estrischi dei più eccetera poi impareremo a fare i caratteri ma qui stiamo pensando proprio a livello base allora questo meno non lo posso usare mi devo inventare un modo per rappresentare il segno dei numeri usando solo le uniche cifre che il calcolatore conosce cioè lo 0 oppure l'1 allora il modo più semplice è quello che viene chiamato modulo e segno che in qualche modo scopiazza ciò che facciamo in decimale e poi però ci accorgeremo che la soluzione è più semplice è la prima che si viene in mente ma non è la più efficace cosa ci dice la rappresentazione di modulo e segno ci dice guarda se tu vuoi rappresentare dei numeri che siano sia positivi che negativi dimmi quanti bit hai a disposizione hai 8 bit a disposizione va bene di questi 8 bit 7 n-1 diciamo se ne abbiamo n uguale 8 7 usali per il valore assoluto e 1 usalo per il segno quindi ve lo devi dire prima mi devi dire prima che di questi 8 bit io voglio rappresentarli in modulo e segno cioè voglio dedicare un bit per rappresentare il segno del numero se siamo d'accordo così allora e quando il primo bit del numero varrà 0 qui sto rappresentando un numero positivo quando questo bit varrà 1 sto rappresentando un numero negativo lo decidiamo è una convenzione ci siamo messi d'accordo così c'è una legge o una regola scegliamo di fare così quindi in questo modo abbiamo prendiamo un caso semplice n uguale 4 se io vi do un numero che è 1 0 1 0 e vi dico che questo numero è rappresentato in modulo e segno voi mi direte che il valore di questo numero è meno 2 perché meno 2 ma perché con n uguale 4 bit il primo bit lo isolo e lo uso per rappresentare il segno in questo caso un 1 rappresenta un numero negativo e il valore assoluto del numero chiaramente lo dovrò leggere sui bit che rimangono solo sui 3 bit rimanenti se invece volessi rappresentare il numero più 5 scriverei 0 1 0 1 questo è più perché il bit di segno vale 0 5 perché i bit rimanenti valgono 5 valgono 1 0 1 è chiaro che così ho da una parte raddoppiato dall'altra dimezzato i numeri che posso rappresentare cioè raddoppiato perché adesso posso rappresentare non solamente i numeri positivi ma anche quelli negativi ma nello stesso tempo li ho dimezzati perché che il valore assoluto del numero avendo io 4 bit a disposizione sono costretto a usarne solamente 3 per il valore assoluto del numero e quindi avrò dei numeri che saranno ovviamente più piccoli l'intervallo di rappresentazione dei numeri positivi è più piccoli mentre su 4 bit se io avessi il binario puro fatemelo rappresentare con BP binario puro oppure in modulo di segno in binario puro io posso rappresentare i numeri che vanno da 0 a 15 ok su 4 bit seguendo il mio esempio in modulo di segno potrò rappresentare i numeri che vanno da meno 7 a più 7 perché un bit l'ho avuto per il segno mi rimangono 3 bit e questi altri 3 bit mi rappresentano un valore assoluto che può variare tra 0 fino al massimo a 7 quindi uso in modo diverso gli stessi bit che ho ho 4 bit li scelgo di usare in modo diverso attenzione che se io vedo solamente dei bit quindi qualcuno mi fa vedere un numero dicendo ah senti ho trovato un numero su marcia piede vale così 1 1 0 0 quanto vale? se lui non mi dice qual è la codifica di questo numero se questo numero è codificato in binario puro questo vale 12 se è codificato in modulo segno questo vale meno 4 ma senza conoscere la codifica non ti posso assolutamente dire quanto vale quel numero solamente i bit non hanno questa informazione noi quindi dobbiamo avere una rappresentazione di un numero e l'informazione sulla codifica che è stata usata quindi questo è un modo semplice per poter estendere ciò che sapevamo fare sui numeri positivi anche sui numeri negativi un bit su 4 chiaramente è tanto però se abbiamo un numero intero su 64 bit e decidiamo di durarne uno su 64 per il segno e gli altri 63 per il valore assoluto non è che ci perdiamo tanto probabilmente almeno in percentuale e questo dicevo è il modo più semplice di estendere i numeri dal binario puro al modulo il segno qui ci sono alcuni esempi simili a quelli che abbiamo fatti Simone mi dice che se non mi dicono qual è la codifica non sottintendiamo che sia pur finché conoscevamo solamente la codifica in binario puro non c'era dubbio adesso che impariamo a conoscere più di una codifica ci rendiamo conto che se non mi dicono la codifica io non posso fare nulla quindi non lasciamo nulla sottinteso quando uno programma il calcolatore non può essere sottinteso si fai la somma di questi due numeri ma inventati tu come sono codificati no va detto esplicitamente ok i numeri interi in python ad esempio sono sempre numeri relativi non sono mai numeri assoluti positivi però questo è specificato ben scritto nel linguaggio quindi non diamo nulla mai per sottinteso ecco i numeri in modo il segno nonostante siano molto semplici da capire sono altrettanto scomodi da usare e questo noi non ce lo ricordiamo più ma quando facevamo non so se quarto o quinta elementare ci ha abbastanza complicato la vita quando abbiamo scoperto che per fare una somma tra due numeri negativi o tra l'uno di segno diverso in realtà devo fare la sottrazione e quando ho due numeri un numero negativo e sottraggo un numero positivo in realtà devo sommare i valori assoluti noi ne abbiamo imparato ovviamente queste regolette se devo sommare sottrarre numeri concordi numeri discordi che cosa devo fare poi è arrivata l'algebra allora non ci siamo più diciamo così accorti di queste di queste differenze tra somma e sottrazione ma nella rappresentazione dei numeri quando facciamo i conti a mano effettivamente continuiamo a gestire tutte le operazioni con dei casi particolari cioè ad esempio se devo fare la somma di due numeri e i numeri sono concordi quindi sia A che B sono positivi in realtà faccio la somma dei valori assoluti se sono entrambi negativi anche qui dovrò fare la somma dei valori assoluti dei due numeri ma poi ci devo mettere il segno meno davanti e così via e quello che facciamo noi in base 10 dovremmo farlo fare al calcolatore in base 2 quindi vuol dire che ogni singola operazione il calcolatore dovrebbe prima fare dei controlli sul segno e poi decidere quale operazione fare tra queste 4 va beh se non ci fosse alternativa ci accontenteremmo ma è già un punto di scomodità e di rallentamento anche delle operazioni quindi è scomodo l'altra cosa un po' antipatica è che se io vado a vedere due numeri che sono questi e li leggo in modulo di segno questo qui fa ovviamente 0 e quello sopra fa anche lui 0 vabbè sappiamo che il 0 col meno davanti è sempre 0 quindi avrei due numeri scusate due rappresentazioni due codifiche binarie diverse perché sono diverse questi che però in realtà hanno lo stesso valore numerico non muore nessuno però immaginatevi quando a un certo punto in python scriviamo if a uguale uguale a b due punti allora per realizzare questa operazione di uguale non basta che io confronti le sequenze di bit perché ci sono dei casi particolari in cui a sequenze di bit diverse in realtà corrispondono valori numerici uguali allora questo complica la vita e si cerca di evitarlo allora i ricercatori già 50 anni fa hanno scoperto che esistevano dei metodi più furbi non più intuitivi meno intuitivi questo è molto intuitivo è banale così come facciamo in base a 10 meno intuitivi ma matematicamente più comodi e hanno diciamo così scoperto o inventato la rappresentazione cosiddetta in complemento a 2 che è quella che si usa sempre la rappresentazione in modulo di segno si usa molto molto di rado dentro i calcolatori normalmente il calcolatore lavora in complemento a 2 qual è il trucco della codifica in complemento a 2 allora anche qui isoliamo un bit che è il bit più significativo e lo usiamo per rappresentare il segno quindi immaginiamo di avere un byte di 8 bit e diciamo il bit più significativo quello di per su 7 non lo usiamo come valore ma lo usiamo come segno solo che anziché dargli un valore moltiplicativo così come facciamo mettendo un segno meno davanti stiamo moltiplicando per più 1 o moltiplicando per meno 1 gli diamo un valore additivo cioè diciamo che questo bit mentre tutti gli altri bit valgono 2 alla 0 2 alla 1 2 alla 2 2 alla 3 questo bit vale meno 2 alla 7 cioè 2 alla 7 è il valore che lui avrebbe in binario puro io decido chiamo il complemento 2 la codifica di un numero in cui il peso del bit più significativo viene preso col segno negativo ok quindi facciamo i nostri esempietti in base sui 4 bit su 4 bit avrò i numeri le cifre che hanno peso 2 alla 0 2 alla 1 2 alla 2 e meno 2 alla 3 quindi cosa capita capita che se io nella posizione del bit più significativo 1 0 il resto del numero è in binario puro su 3 bit ovviamente 1 l'ho perso il primo bit lo perdo come già lo perdevo prima e quindi qui ho che ne so 1 0 1 questo qua è un bellissimo 5 se io però avessi un 1 qua davanti devo sommare ad esempio al solito 1 0 1 di prima non cambiare di disegno ma sommare meno 8 2 alla terza vale 8 quindi questo vale meno 8 quindi questo numero sarebbe meno 8 più 5 che fa meno 3 questo numero vale meno 3 meno 8 più 5 le proprietà delle somme di potenza del 2 fanno sì che la somma di tutte queste cifre che compongono il valore del numero sarà sempre minore o uguale a questo valore 8 cioè su 3 bit il numero massimo che posso ottenere è 7 questo bit vale meno 8 su 7 bit la somma di tutti i numeri che posso ottenere del valore massimo sarà 127 questo vale meno 128 quindi vuol dire che io sto facendo una somma di due fattori di due termini scusate uno è negativo l'altro è positivo ma il termine della somma il termine positivo è sicuramente minore in valore assoluto di quello negativo questo mi permette di dire che se io vedo che il primo bit è un 1 sicuramente è il numero negativo se il primo bit è uno 0 sicuramente è il numero positivo perché ho fatto la somma di tutti i termini positivi ok quindi il primo bit funziona anche come indicatore di segno non è un segno più o un segno o meno ma è una zavorra prende il numero e lo porta giù sott'acqua di meno 128 se sono in base su 8 bit meno 8 se sono su 4 bit quindi è facile da leggere perché guardando il primo bit capisco qual è il segno è facile da calcolare perché tutto sommato segue la stessa regola della sommatoria delle potenze di 2 con una sola piccola eccezione che la potenza più alta la devo prendere col segno meno davanti quindi leggere un numero non ci crea grossi problemi vediamo questo numero qua nell'esempio della slide se qualcuno ci dice che è un numero scritto in complemento 2 come lo possiamo decodificare e anche qua separiamo il primo bit e tutti questi valori avranno un peso che dipende dalla loro potenza di 2 2 alla 0 2 alla 1 2 alla 2 2 alla 3 2 alla 4 2 alla 5 con la differenza che questo è un meno 2 alla 5 complemento 2 il peso del bit più significativo è negativo va preso in modo negativo e quindi abbiamo un numero che è qui 8 più 4 più 1 quanto fa 13 8 4 12 1 13 a cui sommo meno 32 e il risultato complessivo è il meno 19 ok ovviamente come dice Filippo un bit lo spendo sempre cioè non c'è santo un bit per rappresentare il segno lo spendo sempre e quindi potrò rappresentare dei numeri che usano se di qui ho 6 bit ne userò solamente 5 per rappresentare il numero perché il sesto mi serve per rappresentare il segno se non mi posso su 6 bit avrò comunque sempre 2 alla 6 combinazioni diverse poi sono io che scelgo se queste 2 alla 6 combinazioni rappresentano i numeri positivi tra 0 e 63 2 alla 6 vale 64 oppure se rappresentano i numeri tra meno 63 più 63 le combinazioni sono sempre le stesse sono io che scelgo come usare a seconda di ciò che mi serve 1 1 0 1 non è meno 3 dove l'ho fatto sì infatti è meno 3 mi chiede Matteo se 1 1 0 1 è meno 3 perché è meno 8 più più 5 è l'esempio che abbiamo fatto nella slide prima e effettivamente avevamo scritto che fa meno 3 quindi sembra un po' strano a prima vista ma poi in pratica ci accorgiamo che è abbastanza semplice anche qua fare le operazioni le conversioni in particolare se io devo prendere un numero decimale e convertirlo in binario in complemento 2 allora non cambia nulla ci mettono 0 davanti più il resto del numero in binario puro se invece il numero è negativo devo fare un po' attenzione a come rappresentare il numero qui c'è un'operazione che c'è un esempio di come fare ma ve lo faccio vedere in un modo prima un po' di più intuitivo e poi vediamo il meccanismo vorrei solo rispondere anche al che mi dice che se l'esponente fosse pari il numero diventerà negativo no attenzione che non è meno è meno 2 alla 5 ok quindi il meno è fuori dalla potenza quindi con qualunque esponente il valore è sempre sempre negativo anche forse forse su 7 bit sarebbe meno 2 alla sesta quindi meno 63 meno 128 ok allora immaginiamo di voler convertire un numero negativo prendo quello della slide dopo meno 12 quindi nella slide dopo mi chiede facciamolo a parte di convertire il meno 12 in base 10 che è in base 10 convertirlo in base 2 in base 2 in codificato in complemento 2 lo approviamo come complemento a 2 su quanti bit su 5 bit su 5 bit ok vediamo come fare questa operazione lo facciamo prima intuitivamente poi vediamo sulle slide qual è diciamo così il meccanismo che ci insegna a farlo anche in modo più meccanico su 5 bit prepariamoci i 5 bit quindi sono 1 2 3 4 e 5 e le potenze saranno 2 alla 0 2 alla 1 2 alla 2 2 alla 3 e meno 2 alla 4 il complemento 2 l'unica cosa che dobbiamo ricordarci è questo meno qua davanti allora il numero meno 12 è palesemente un numero negativo essendo un numero negativo di sicuro qua ci vuole un 1 perché visto che è una somma di tanti termini di cui l'unico negativo è questo e tutti gli altri sono positivi per avere risultato negativo quello deve essere un 1 questo 1 ha un valore che ha un peso di 2 alla quarta quindi meno 16 giusto? allora se quell'1 ci deve essere perché il numero lo voglio negativo e quell'1 da solo vale meno 16 cosa dovrò sommare al meno 16 affinché il totale faccia meno 12 più 4 più 4 allora 4 e lo so già scrivere è 0 0 1 0 quindi basta semplicemente per questo si chiama complemento a 2 quanto manca per arrivare al 16 se io sono c'erano 12 ne mancano 4 e questa è l'operazione che stiamo facendo se io faccio questa somma ho meno 16 più 4 che fa esattamente meno 12 e noi l'abbiamo diciamo così ci siamo ricondotti alla codifica del numero positivo perché la parte la componente negativa del numero l'abbiamo fatta a parte l'abbiamo calcolata a parte cerco di decodificare la domanda di Massimiliano che mi dice con questa codifica esistono dei numeri doppi tipo 111 in base a 2 diventa allora mi dici che lui mi dice che 111 in complemento a 2 in base a 2 quindi in complemento a 2 vale giustamente questo è il segno e gli altri sono il valore quindi vale meno 012 quindi meno 2 alla 2 più 2 alla 1 più 2 alla 0 quindi abbiamo meno 4 più 3 che fa meno 1 quindi quel numero esatto vale meno 1 1 mi dici tu che 1 1 in complemento a 2 vale meno 2 alla 1 più 2 alla 0 cioè meno 2 più 1 cioè meno 1 quindi questi due numeri sono lo stesso numero sì uno espresso su 2 bit l'altro espresso su 3 bit allora questo ci dà lo spunto per capire come passare da un numero di bit a un numero di bit maggiore se io ho dei numeri solamente positivi quindi avessi il solito 5 l'ho scritto su 4 bit se io scrivo 5 così o se lo scrivo così o ci aggiungo ancora uno 0 davanti nessuno si scandalizza nessuno dice attenzione ci vuole uno 0 nessuno mi sta dicendo eh no sono tanti modi diversi di scrivere il 5 non è più unico no semplicemente aggiungo degli 0 davanti e così i 0 non cambiano il valore del numero e questo è normale ok lo facciamo già in base 10 gli 0 davanti è come se davanti ad ogni numero ci fosse alla sua sinistra una sequenza infinita di zeri che tanto non ne cambiano il valore la stessa cosa si può fare con i numeri negativi quindi io avevo il mio prendiamo 1 1 0 1 cioè meno 3 ok io posso mettergli davanti non 1 0 se li mettessi davanti uno 0 farei un grosso danno vogliamo scriverlo qua in un colore diverso 0 1 1 0 1 questo qui non è più meno 3 vale più 13 no no ma se invece facessi la prova mettendogli davanti un 1 quanto vale questo numero facciamoci il conto vale dunque 1 2 4 8 16 meno 16 più 8 più 4 più 1 quindi 8 più 4 più 1 fa 13 meno 16 fa meno 3 e se aggiungo un altro 1 davanti 1 1 1 1 0 1 questo numero quanto vale anche qui facciamo i conti meno 32 più 16 più 8 più 4 più 1 quindi qui abbiamo questo qua faceva già 13 prima 13 più 16 siamo a 29 32 meno 29 29 30 31 32 fa meno 3 e così via cioè così come per un numero positivo possiamo sottintendere una quantità infinita di 0 alla sua sinistra un numero negativo ha sottintesi una quantità infinita di 1 alla sua sinistra e la cosa funziona perché vedete che ogni volta io prendo un meno 16 questo meno 16 lo trasformo in più 16 e poi sottrago 32 allora se voi fate la somma fa 0 cioè un meno 16 che è diventato più 16 ha guadagnato 32 unità poi ne tolgo 32 e sono esattamente lo stesso valore se aggiungo ancora un 1 aggiungerò prenderò il meno 32 facendo diventare più 32 perché non è più il segno ho guadagnato 64 ma mettendo un 1 davanti quello vale meno 64 e sono da capo ok quindi in complemento 2 allargare questa operazione si chiama estensione del segno se sentite parlare di estensione del segno significa aggiungere davanti 0 per i numeri positivi o aggiungere davanti 1 per i numeri positivi in modo da avere lo stesso numero rappresentato su un maggior numero di bit su una quantità maggiore di bit ok andiamo a fare attenzione appunto lo 0 davanti non mi mantiene sempre il numero solamente lo mantiene se i numeri erano positivi questa è la presentazione di complemento 2 Massimiliano mi dice se il primo bit ha la stessa cifra del secondo bit è solo un altro punto di mettere il stesso numero quando scriviamo 037 sì in realtà in decimale noi non abbiamo questo trucco perché come vi dicevo il segno più il segno meno è diverso dalle cifre quindi abbiamo solamente il fatto che lo 0 può essere sottinteso ma il bit di segno non è sottinteso perché lo usiamo in modo diverso qui ci sono sia gli 0 sottintesi per numeri positivi che gli 1 sottintesi per numeri negativi quindi non spaventiamoci quello che abbiamo imparato però è un'altra cosa è che per poter leggere un numero io devo sapere non solo come è codificato ma anche quanti bit su quanti bit è rappresentato ok perché se loro mi dicono guarda che è un numero che è 1 1 su 4 bit io ti dico sì ma cos'è no questi non sono 4 bit sono solamente 2 devi dirmeli tutti e 4 affinché io possa capire se questo 1 1 è un 3 oppure è un meno 1 ok ragionando in complemento 2 quindi è necessario essere sempre espliciti rispetto alla codifica tutto questo l'abbiamo fatto semplicemente ragionando sull'unica cosa che vi ho detto del complemento 2 cioè il fatto che il bit di peso più significativo va preso col segno meno e di fatto basta quello alcuni prevediscono dei metodi un pochino più meccanici per rappresentare i numeri negativi e questa slide diciamo così ci insegna come fare cioè immaginiamo noi avevamo convertito meno 12 ok questa slide ci dice guarda che tu il meno 12 lo provi a rappresentare seguendo una procedura fatta di tre passi che sono questi 1 2 3 scrivi il numero in binario diciamo così finora abbiamo chiamato binario puro binario positivo complementa il numero e somma 1 questa è l'operazione meno 12 se lo volessi scrivere su 5 bit in complemento a 2 partirei dallo scrivere il più 12 sempre su 5 bit sempre in complemento a 2 essendo più 12 c'ha il più davanti c'ha un 0 davanti e poi rappresenta semplicemente il 12 poi prendo questi 5 bit e li inverto complemento ogni singolo bit dove c'era 0 diventa 1 dove c'era 0 diventa 1 dove c'era 1 diventa 0 e così via e poi a questo questo valore sommo 1 faccio questa operazione in cui prendo quel valore che ho ottenuto dalla complementazione dei bit del numero positivo e sommo 1 e la somma avviene con le regole del riporto che conosciamo quindi 1 più 1 fa 0 con il riporto di 1 1 più 1 fa il riporto di 1 0 più 0 più 1 di riporto fa 1 e così via è la regola della somma che abbiamo imparato la volta scorsa e ciò che viene è la rappresentazione in complemento a 2 di meno 12 che noi già 1 0 1 0 0 che noi già conoscevamo l'abbiamo fatta qua senza onestamente praticando di meno ci abbiamo pensato ragionato un pochino di più per dire che numero ci vuole qua però abbiamo fatto meno passaggi abbiamo fatto meno calcoli quindi possiamo fare queste conversioni ragionando già così su qual è la componente negativa qual è la componente positiva del numero oppure applicare questo metodo che anche qua funziona se vogliamo sempre se vogliamo possiamo prendere un altro esempio no se vogliamo convertire magari il non so facciamo il meno 18 su 6 bit in complemento 2 quanto fa allora usando questo meccanismo io devo fare tre passaggi il primo passaggio è scrivere il valore di più 18 su 6 bit allora ho 6 bit 18 vale dunque 16 più 2 fai pensando alle potenze del 2 quindi 16 più 2 vuol dire che 1 non ce l'ho 2 ce l'ho 4 non ce l'ho 8 non ce l'ho 16 sì e questo vale già 18 quanti bit ho? ne ho 5 visto che devo fare il numero su 6 bit aggiungo un sesto bit ok quindi ho semplicemente pensato alle potenze del 2 che sono contenute nel 18 16 mi dà questo 1 in questa posizione 16 mi dà questo scusate 1 in questa posizione 16 più 2 mi dà questo 1 in questa altra posizione il 2 e aggiungo un 0 davanti perché stiamo scrivendo un numero positivo ricordiamoci su 6 bit poi il secondo passaggio è abbiamo detto inverto i bit inverto i bit e quindi avrò 1 0 1 1 0 1 e poi l'ultimo passaggio che è sommo 1 sommo 1 quindi sommo 0 0 0 0 0 1 ho scritto 1 su 6 bit perché ovviamente il mio mondo è su 6 bit faccio questa somma 1 più 1 fa 0 con un riporto di 1 1 più 0 fa 1 e poi basta perché non ho più riporti sotto gli alizzeri quindi basta ricopiare il numero quindi questo è il valore del meno 18 il complemento 2 su 6 bit se non ci crediamo basta fare le verifiche perché questo vale abbiamo detto 1 2 4 8 16 32 meno 32 e questo numero invece questa parte qua vale 2 più 4 più 8 che è 14 giusto? 32 meno 14 fa esattamente meno 18 ok? scegliete il metodo che preferite il metodo più intuitivo dicendo io metto un meno 32 e mi chiedo che cosa manca al meno 32 per arrivare al meno 18 e scopro che manca 14 e scrivo il 14 sui 5 bit che mi sono rimasti oppure applico questi tre passaggi e arrivo ovviamente al stesso risultato facendo più conti ma pensando di meno ragionandoci di meno e questa è l'operazione di conversione dalla base 10 al complemento 2 ok? sul complemento 2 si possono poi fare una volta che i numeri rappresentati in complemento 2 possono fare le operazioni solite la somma la sottrazione eccetera eccetera ecco questo è il vero motivo per cui hanno inventato il complemento 2 il modo per fare la somma e la sottrazione per i numeri in complemento 2 è identico al metodo di somma e sottrazione per i numeri in binario semplice in binario puro le stesse regole voi mi dite ma no ma devi fare attenzione perché quando io ho un riporto che questo riporto va a finire sul bit di segno quello fa casino perché sto facendo un riporto di numero positivo su uno negativo ecco quello che si scopre andando a studiare meglio le operazioni è che in realtà le cose si mettono a posto da sole cioè il più col meno si semplificano e se tu hai dei numeri che sono codificati in binario puro e li sommi la stessa codifica la leggi in complemento 2 e fai la somma ecco il risultato viene esattamente identico in termini di bit poi il valore numerico vero il valore decimale è diverso perché quel bit lo decodifico in modo diverso in pratica significa che dentro il calcolatore non ci sono due circuiti elettronici uno che fa la somma in binario puro e l'altro che fa la somma in complemento 2 perché queste due somme funzionano nello stesso modo c'è un circuito solo questo non succederebbe con la rappresentazione in modulo e segno perché abbiamo visto che in modulo e segno quando devo fare una somma ho quattro casi particolari devo fare somma oppure sottrazione eccetera quindi la meccanica la macchinetta per fare la circuiteria per fare la somma in modulo e segno è diversa è più complicata rispetto a quella per fare la somma in binario puro mentre si usa sempre il complemento 2 proprio perché fare le somme e sottrazioni in complemento 2 si fa esattamente usando la stessa macchinetta che usiamo per il binario puro cioè praticamente noi potremmo avere due numeri in complemento 2 li vogliamo sommare non abbiamo voglia allora prendiamo un nostro compagno che abbia seguito la lezione scorsa ma non quella di oggi quindi non sa neanche che cos'è il complemento 2 gli diamo questi due numeri e gli diciamo somma lui la somma l'ha imparata la settimana scorsa la fa pensando di sommare due numeri positivi salta fuori il risultato diciamo grazie questo risultato magari è un numero negativo non è un numero positivo ed è casualmente non casualmente diciamo così matematicamente il risultato corretto di quell'operazione ok quindi in pratica la gestione dei segni si compensa automaticamente usando la stessa meccanica dell'operazione di somma normale fare somme o fare sottrazioni esattamente esattamente nello stesso metodo ok qui c'è un esempio adesso questi numeri non sono forse ben allineati sulla slide ma cerchiamo di leggerli immaginiamo di voler fare questa somma in complemento 2 questa è una somma di un numero noi lo riconosciamo positivo più un numero negativo facciamo fine di non pensarci però ok e facciamo una somma normale bit a bit quindi 0 più 1 fa 1 1 più senza riporto 1 più 1 fa 0 col riporto di 1 quindi abbiamo 1 più 0 più 1 di riporto che fa ancora 0 col riporto di 1 poi c'è di nuovo uno 0 col riporto di 1 a questo punto c'è un 1 perché 0 più 0 più 1 1 più 0 fa 1 0 più 1 fa 1 e così via quindi io ho fatto questa somma senza pensare ai segni pensavo semplicemente alla regola di somma dei bit in realtà ho sommato un numero positivo più un numero negativo e mi è saltato fuori un numero negativo sarà giusto? io prima vi ho detto parole sì è giusto andiamo a verificarlo in questo caso abbiamo che il primo numero se lo convertissimo in base 10 varrebbe più 38 il secondo numero se lo convertissimo in base 10 varrebbe meno 53 e il risultato varrebbe meno 15 sempre negativo e guarda caso è proprio il valore giusto quindi il segno è venuto negativo perché in realtà il secondo numero in valore assoluto era minore del primo ma questo non abbiamo dovuto pensarlo noi semplicemente è venuto fuori dai calcoli ovviamente fino a quando come mi suggerisco nella chat non capita una condizione di overflow ecco la stessa cosa capita con la sottrazione adesso qui se volete potete farvi vari passaggi ma viene esattamente uguale 0 meno 1 non si può fare quindi prendo un 2 e con un 1 di prestito e mi rimane 2 meno 1 fa 1 qui avrò 1 meno 1 meno 1 quindi devo ancora prendere un prestito di qua eccetera eccetera e questo prestito si annulla con questo 0 e vado avanti e anche qua qui faccio la sottrazione tra un numero positivo meno un numero negativo in realtà quello che sto facendo è una somma dei valori assoluti il risultato giustamente è venuto positivo un numero positivo più grande del numero di partenza questo è ciò che ci stavamo aspettando e faceva 91 quindi questo funziona sempre fin tanto che il risultato dell'operazione sia ancora rappresentabile nei bit che ho a disposizione altrimenti sappiamo già che il meccanismo di overflow mi dice che la situazione di overflow mi dice che il risultato che vedo che leggo nei bit non rappresenterà più il risultato vero dell'operazione ma rappresenta un numero diverso allora c'è un paio di domande nella chat Alessio che mi dice nel caso precedente togliendo 3 1 di fila rimarrebbe 1 0 0 1 e quindi meno 15 comunque giusto devo dire che se mi puoi rifare la domanda non capisco cosa intendi con togliendo 3 1 di fila ah ok tu stai dicendo questi 3 1 li puoi semplificare perché abbiamo visto che sono i bit di segno possono essere sottintesi se è questo sì si potrebbe ma ricordiamoci che noi lavoriamo sempre su un numero dichiariamo prima quanti bit abbiamo a disposizione quindi poi non posso giocare dicendo ne aggiungo 2 o ne tolgo 3 se lavoro su 8 bit questi sono 8 bit devo dare sia gli addendi che il risultato sempre su 8 bit ok poi per pigrizza ce lo scrivo solo su 5 va bene vale sempre 15 però queste operazioni hanno senso e riusciamo a capire se sono validi solamente se il numero di bit in cui rappresentiamo ogni numero a partire dagli input ad arrivare fino ai risultati è sempre spesso sullo stesso numero di bit Christian mi chiede un altro esempio in cui sommo due numeri negativi ma non è un grosso problema proviamo a sommare ad esempio non so lavoriamo su 4 bit per facilità ok sommiamo meno 3 più non so meno 2 che noi sappiamo fa meno 5 vediamo cosa salta fuori in binario allora su 4 bit abbiamo ovviamente i pesi che sono 1 2 4 e meno 8 ok quindi il meno 3 lo rappresento con meno 8 più 5 il meno 2 lo rappresento con meno 8 più 6 quindi meno 8 più 6 e voglio fare una sottrazione ok allora 1 meno 0 uso la regola della sottrazione normale 1 meno 0 0 0 meno 1 non si può fare quindi prendo 1 di prestito di qua e qui avrò quindi un 2 2 meno 1 fa 1 qui devo fare 1 meno 1 meno 1 non si può fare prendo un prestito quindi a questo punto qui avrò un 2 2 più 1 3 meno 1 meno 1 1 qui devo fare 1 meno 1 ancora meno 1 quindi prendo un prestito e qui un 2 2 più 1 3 meno 1 meno 1 fa 1 quindi il risultato che è saltato fuori è meno 8 ecco ho sbagliato ho sbagliato al primo scusate 1 meno 0 non ve lo dite che che fa 1 e poi abbiamo e non c'è un riparo scusate diciamo che la rifacciamo da capo perché ho sbagliato proprio il primo passaggio e quindi tutti gli altri di conseguenza 1 meno 0 fa 1 senza nessun riporto ah era somma ecco perché mi sono incasinato somma di due negativi ok ok pensavo due cose insieme non va fatto questo mai sempre pensare una per volta allora ricominciare da capo una somma giustamente grazie vediamo di farcela 1 più 0 1 questo è facile 0 più 1 1 1 più 1 0 col riporto di 1 1 più 1 più 1 fa 3 cioè 1 col riporto di 1 questo è il risultato e se vado a vedere fa meno 8 più 3 che fa proprio meno 5 meno 8 più 3 il risultato è venuto giusto nonostante ci fosse questo riporto in uscita dal bit più significativo quel riporto lì c'è ma noi non lo vediamo perché se il nostro mondo finisce su 4 bit il quinto bit non esiste quindi in questo caso abbiamo avuto un un riporto diciamo così in uscita dal numero ma in realtà abbiamo avuto anche un riporto dal penultimo verso l'ultimo questo 1 qui quest'altro 1 che fanno sì che alla fine un riporto in entrata più in uscita si annullano in un certo senso e il risultato viene giusto viene giusto sempre non vi sto qua a dimostrare che è così perché altrimenti ci metteremo un'ora solamente per vedere questa operazione quello che dobbiamo capire però è che le regole per per operare in due cose uno che il meccanismo per fare l'operazione in complemento 2 è identico al meccanismo per fare l'operazione in binario puro quindi mentre faccio l'operazione posso non pensare al complemento 2 agisco come se i numeri fossero in binario puro adesso anche con la sottrazione sarebbe venuto se avessi fatto la sottrazione corretta è uno la seconda cosa è che l'indicazione che prima ci faceva capire che ci poteva essere un overflow cioè il fatto che ci fosse un riporto che non andava da nessuna parte che mi ha perso e questo causava un overflow in binario puro ecco nel complemento 2 non è più così il fatto che ci sia questo riporto non crea problemi e allora la regola per accorgersi dell'overflow sarà diversa ok qui non è diverso il modo di fare l'operazione il modo di fare l'operazione è lo stesso il modo di accorgersi dell'overflow è diverso invece cosa capita e questa è la regola per riconoscersi dell'overflow in complemento 2 se io devo sommare qui parliamo di somme due numeri che hanno segno diverso non ci sarà mai overflow sommo un positivo più negativo il risultato sarà sempre compreso tra i due matematicamente no? a più b se a e b hanno segno diverso il risultato è sempre compreso tra a e b perché sarà quello negativo più qualcosa oppure quello positivo meno qualcosa quindi sicuramente è in mezzo ai due e quindi se a e b erano rappresentabili su 8 bit a maggior ragione un numero che tra di loro compreso sarà rappresentabile sullo stesso numero di bit quindi non dobbiamo mai pensarci l'unico problema è se sto cercando di sommare due numeri che hanno lo stesso segno allora in questo caso faccio l'operazione e poi vado a vedere il segno del risultato allora se sommo due numeri positivi il risultato sarà positivo se mi viene un bit 1 un segno negativo vuol dire che c'è stato overflow se sommo due numeri negativi mi aspetto che il numero risultato sia negativo sommato due numeri negativi mi aspetto che il risultato sia negativo il risultato è venuto negativo e quindi sono a posto e quindi è giusto il numero se per caso fosse dato fuori uno zero in questa posizione allora overflow la addizione non avrebbe funzionato se provassi a fare delle somme con dei numeri più grandi il cui risultato non ci sta su 8 bit quindi potremmo fare che non so meno 5 più meno 5 per dire per farne una e quindi meno 5 sappiamo già che si scrive meno 8 più 3 più meno 5 facciamo questa somma 1 più 1 fa 0 col riporto di 1 3 1 fa 1 col riporto di 1 qui c'è un 1 1 più 1 fa 0 col riporto di 1 ecco ciò che è successo è che io ho sommato due numeri che erano negativi e il risultato stranamente è uscito positivo e questo indica proprio che l'operazione ha dato un risultato sbagliato e in questo caso si è verificata una condizione di overflow che in complemento 2 lo ripetiamo ancora si può verificare solo se faccio somme di operandi che hanno lo stesso segno segno con corde e il segno di risultato non ha lo stesso segno degli operandi questo è l'unico caso se invece gli operandi hanno un segno diverso il complemento 2 non si può mai verificare Marco mi dice una cosa nella chat dice ma io non ho voglia di fare le sottrazioni non posso fare le somme sì ma fai attenzione perché se tu hai un numero Marco la sua idea se lo capita bene è del tipo ma se io dovessi fare 3 più 3 meno meno 3 ad esempio non ho voglia di imparare a fare la sottrazione e allora faccio una somma faccio meno più 3 più più 3 quindi trasformo una sottrazione in una somma cambiando il segno dell'operando che è lecito va benissimo attenzione però come si fa a cambiare il segno in complemento 2 perché se io meno 3 che sempre sui nostri 4 bit abbiamo ormai imparato che vale 1 1 0 1 cioè meno 8 più 5 per ottenere più 3 non posso cambiare semplicemente il bit di segno cosa si fa di nuovo via non posso cambiare semplicemente il bit di segno e metterlo 0 e poi continuo 1 0 1 perché questo non fa più 3 questo fa più 5 ok quindi posso cambiare trasformare una somma in una sottrazione semplicemente cambiando il segno secondo operando ma in complemento 2 cambiare il segno a un numero non significa invertire il bit di segno no il meno 3 si scriverà ovviamente il più 3 sarà 0 0 1 1 ok è certo che si può fare si fa ad esempio col meccanismo di prima questa operazione qua che abbiamo visto nelle slide inverto i bit e sommo 1 è quello che cambia il segno cambia il segno al numero quindi se voglio cambiare il segno un numero in complemento 2 faccio questi due passaggi infatti eravamo partiti da più 12 e abbiamo ottenuto meno 12 facendo come invertendo i bit e sommando 1 si può fare se convenga fare questo e poi fare la somma oppure convenga imparare a fare la sottrazione siamo lì in termini di complessità di numero di operazioni che dobbiamo fare ok ma non spaventiamoci di questo complemento 2 che suona un po' strano applicato per il nome ma perché in realtà poi l'operatività se ci ricordiamo solo che il bit più significativo vale meno 2 alla in realtà da lì possiamo ricavare tutto fare tutte le operazioni Simone mi dice non ho capito perché nel fare questa somma non consideriamo il riporto finale e perché questo riporto quindi questo riporto finale qui questo 1 che c'è qua perché questo 1 cade sul quinto bit e se noi abbiamo detto che il nostro mondo il nostro calcolatore in questo momento lavora su 4 bit il quinto bit non esiste non c'è e quindi non lo vedo quell'uno lì noi se lo facciamo con carta e penna sappiamo che dovremmo sommarlo ma dovremmo sommarlo a chi? a qualcuno che non esiste e allora di fatto non sommiamo lo ignoriamo tranquillamente nel complemento 2 noi lo ignoravamo quel bit perché comunque non avremmo avuto un posto in cui sommarlo ma ne avremmo tenuto conto dicendo attenzione che c'è un overflow nel binario puro invece nel complemento 2 possiamo ignorarlo del tutto l'unica cosa che ci interessa per rilevare l'overflow è solamente come abbiamo visto il segno del risultato ok? quindi quell'uno non lo potremo mai comunque sommare in binario puro mi indica la presentazione di overflow in complemento 2 non mi indica un bel niente può esserci o non esserci quel riporto non non lo uso e non mi dà nessuna informazione utile ok? quando noi usiamo i numeri in complemento 2 anche qua già come facevamo come avevamo ragionato sui numeri in complemento in modulo e segno è chiaro che l'intervallo di rappresentazione si riduce rispetto ai numeri in binario puro perché devo avere un po' di numeri negativi e un po' di numeri positivi la particolarità del complemento 2 è che questo intervallo è asimmetrico diciamo nel senso che il numero più negativo di tutti è il numero che si scrive 1 seguito da tutti i zeri ovviamente perché è un termine negativo e lo sommo tutti quelli positivi non li metto e così ottengo il numero più negativo possibile non dite ai vostri professori di matematica che dico più negativo il numero più positivo che posso ottenere come lo scrivo dovrò mettere ovviamente se voglio il numero positivo il bit di segno pari a 0 e tutti gli altri bit che sono positivi li devo mettere tutti cercare di sommare più roba che posso quindi il numero più piccolo che posso scrivere in complemento 2 è 1 seguito tanti zeri e il suo valore decimale chiaramente vale il peso del bit più significativo cioè il famoso meno 2 alla 7 meno 2 alla 3 meno 2 alla n-1 il peso del bit più significativo preso col segno meno il valore positivo massimo sarà quello che otterrei in binario puro avendo un bit in meno quindi la formuletta del binario puro ci diceva che poteva rappresentare i valori fino a 2 alla n-1 in questo caso non è n ma è solo n-1 perché un bit l'ho tolto un bit l'ho perso chiaramente quindi questo n-1 perché se io voglio rappresentare un numero in complemento 2 su 8 bit se questi fossero 8 bit la parte positiva è solamente di 7 bit quindi questo n-1 mi rappresenta il fatto che su n bit uno l'ho già usato per il segno diciamo e gli altri li uso solamente per il valore solamente gli altri li posso usare per il valore quindi abbiamo questi intervalli di rappresentazione in cui alla fine c'è un numero negativo in più rispetto ai numeri positivi ma questo perché beh semplicemente perché lo 0 conta tra i positivi perché lo 0 si scriverà 0 come si scriverà tutti i 0 e c'è solo questo modo di scrivere lo 0 non c'è il doppio 0 come facevamo come poteva capitare nel modulo di segno e visto che ha lo 0 davanti lui si mangia una delle combinazioni che servono ai numeri positivi quindi questa piccola simmetria ma non ci disturba più di tanto semplicemente di darlo alla rappresentazione ha un negativo in più rispetto a quanti positivi può ottenere ok questo per quanto riguarda i numeri interi ok numeri interi in binario puro numeri interi in complemento 2 su questi sappiamo fare le operazioni di base somma e sottrazione sappiamo riconoscere quando si verifica una situazione di overflow nel caso del binario puro me ne accorgo dal riporto nel caso del modulo di segno del complemento 2 del modulo di segno non lo impariamo ce lo possiamo dimenticare nel caso del complemento 2 me ne accorgo del segno del risultato dal valore corretto del segno del risultato e qua possiamo andare avanti nel senso che abbiamo siamo partiti dal binario puro abbiamo costruito i numeri reali inventandoci il complemento 2 capendo un po' come funziona quindi qui abbiamo solamente i numeri naturali in certo senso qui abbiamo i numeri interi e poi potremo arrivare ai numeri reali come? con una rappresentazione più complicata che permette di rappresentare i numeri reali noi l'abbiamo già un po' vista in python c'è una rappresentazione con i float che si chiama floating point che permette di rappresentare numeri appunto che hanno dei valori reali e non solamente dei valori interi su che cosa si basa questa rappresentazione iniziamo a vederla poi chiaramente finiamo di approfondirla nella prossima lezione rappresentare un numero reale è molto più complicato rispetto a un numero intero proprio perché i numeri reali sono i numeri che noi chiamiamo reali possono avere un range molto ampio di valori e possono avere un numero di cifre decimali molto elevato ad esempio per rappresentare il numero reale io potrei voler rappresentare il numero il numero il nostro amico 3pi greco quindi 1 4 1 5 2 7 eccetera eccetera molte cifre decimali ma il numero trovato è un numero piccolo oppure potrei voler rappresentare qualcosa come non so il 6,02 per 10 alla 23 se me lo ricordo bene no? il nostro caro numero di avogado quindi molto grande magari ho poche cifre decimali ma una grande potenza no? del 10 oppure posso avere qualche cosa come 10 alla meno 40 no? 7,5 questo non mi invento non mi viene in mente nessuna costante matematica che abbia un esponente negativo i reali sono 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 maledetti no? in certo senso sono molto estesi molto estesi verso il più infinito o il meno infinito possono essere molto densi vicino allo zero perché abbiamo molti valori che hanno valore positivo e poi loro stessi hanno una precisione infinita fatta di tantissime cifre decimali quindi serve una presentazione che tenga conto di tutte queste di tutte queste particolarità purtroppo non riusciamo a fare quello che si dice Massimiliano cioè i razionali i trascendenti eccetera eccetera perché in realtà noi parliamo di numeri reali ma in realtà non sono i numeri reali sarebbero in realtà numeri razionali e neanche tutti nemmeno tutti approssimiamo approssimiamo dei numeri reali con un numero finito di bit e quindi siamo obbligati a fare qualche tipo di approssimazione quindi un numero trascendente come un pi greco non riusciremo mai a rappresentarlo un numero come l'amore avvocato su 23 cifre forse non riusciremo mai a rappresentare tutte 23 ci dovremmo accontentare delle prime una precisione di 10 alla meno 23 forse non riusciremo a ottenerla ok allora qual è l'idea l'idea potrebbe essere quella di due idee diverse due impostazioni diverse anche qua partiamo da quella più intuitiva per poi arrivare a quella che in realtà si usa l'idea più intuitiva potrebbe essere quella di rappresentare i numeri reali con un meccanismo tipo che si chiama virgola fissa noi abbiamo un certo numero di bit a disposizione supponiamo di avere 32 decidiamo così ci svegliamo un mattino che di questi 32 bit ne usiamo che ne so 24 per la parte intera e 8 per la parte frazionaria quindi decidiamo arbitrariamente arbitrariamente che un qualunque numero reale chiamiamo reale tra virgolette quindi un'approssimazione di un numero reale per quanto riusciremo a fare lo rappresenteremo dividendo la parte intera dalla parte frazionaria rappresentando la parte intera su 24 bit rappresentando la parte frazionaria su 8 bit la virgola anche qui in base 10 noi usiamo un segno in più diverso per rappresentare la virgola in binario non c'è può esserci solo 0 1 non c'è il segno virgola e quindi questa virgola dovrà essere sottintesa dovremo dire noi dove la indichiamo dove immaginiamo che ci sia perché lei fisicamente non c'è fa parte della codifica io ti dico guarda rappresentate un numero in virgola fissa dicendo che ho 8 cifre di parte frazionaria come funziona questo tipo di codifica funziona semplicemente con la stessa formula se qui ho le potenze che sono 2 alla 0 2 alla 1 2 alla 2 e così via se ho 24 bit alla fine arriverò fino alla 2 23 sulla parte frazionaria lavorerò con delle potenze negative 2 alla meno 1 2 alla meno 2 2 alla meno 3 eccetera 2 alla meno 4 e così via adesso non stiamo qua non fa parte diciamo così degli obiettivi del corso entrare nel dettaglio di questa presentazione però per fare un esempio semplice se io avessi 1 0 1 0 e mi dicessero che questo è un numero in virgola fissa con 2 bit di parte intera e 2 bit di parte frazionaria questo varrebbe 2,5 perché ho che cosa ho l'uno 2 un mezzo un quarto proseguo le potenze del 2 ma noi in base 10 lo facciamo già un decimo un centesimo un millesimo un decimillesimo e anziché decimi saranno mezzi un mezzo di un mezzo un mezzo di un mezzo di un mezzo e così via quindi si usa questo metodo si può usare questo metodo questo metodo però ha un difetto chiaramente che io devo sapere a priori quanta precisione mi serve nella parte intera quanta precisione mi serve nella parte frazionaria e quindi non potrò rappresentare contemporaneamente nello stesso programma questi due numeri perché questo secondo numero col meno 40 mi serve una parte frazionaria grandissima la parte interna non mi serve mentre invece su questo mi serve solamente parte intera perché la parte frazionaria sicuramente sarà dopo 23 cifre di parte intera quindi non mi interessa più entra nell'errore di approssimazione avere un programma unico che ti dice guarda tu puoi rappresentare i numeri frazionari ma solamente in questo range avere un linguaggio di programmazione di questo genere sarebbe molto limitativo allora quello che si sono inventati e quello che ci diciamo così andremo a vedere la prossima volta è invece un meccanismo di virgola mobile in cui la posizione della virgola immaginaria non è fissa ma può essere spostata avanti e indietro quindi posso decidere dinamicamente quante cifre ci sono davanti alla virgola e quante cifre ci sono dietro alla virgola questo è il concetto di base poi lo si fa con un meccanismo diciamo quindi un pochino più complicato dividendo mantissa ed esponente un po' come facciamo in base 10 sulla notazione scientifica però richiede un pochino più di tempo per essere spiegato quindi lo rimandiamo alla prossima lezione di teoria che probabilmente cadrà la settimana prossima quindi vi ringrazio per questa sera ci interrompiamo a questo punto domani proseguiamo con gli esercizi sulle liste e sulle tabelle così come anche il laboratorio prossimo sarà ancora sempre su questo argomento liste e tabelle fino a iniziare poi l'argomento nuovo dei file la settimana prossima grazie a tutti scusate per gli errori di calcolo cerchiamo di rifarli in bella la prossima volta meglio e buona serata a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti